Allora i numeri planetari, io spero quest'anno che arrivi a 50 milioni di fatturato, abbiamo 11 strutture, potremmo arrivare a 12, 13, no perché c'è il decrescenzo che è molto superstizioso, quindi quando saranno 13 e 17 dovremmo farne due alla volta. Due contemporanei, eh sì. Quindi adesso saranno 12 o 14 per quest'anno e sono sicura che chiuderemo dell'opportunità, lo sento nell'area ma non vi posso anticipare perché... Sempre con real estate dentro o anche gestione? Sempre, noi siamo proprietari di 10 e solo uno in gestione, sono aperta, il mio gruppo, sono seria, siamo aperti anche alle gestioni, abbiamo delle grosse soddisfazioni con il francese di El Hotel Indigo in centro a Milano, abbiamo un relaisciato che tutti conoscete, insomma abbiamo un portafoglio magari piccolo, magari selezionato però di strutture che hanno un'identità, una storia e ci danno... Anche molto diverse l'uno dall'altro? Sì, perché l'ho fatta in epoche differenti e il mio mood era diverso e ogni volta devi dare risposte a clienti nuovi, diversi, li fai, non so, nel 2009 quando tutto crolla e lì è nata la fiaba di Chateau Montfort. Tante volte io agito per reazione, l'albergatore deve offrire un sogno al cliente, deve svagarlo e in quel modo a seconda del contesto che uno vive dai una risposta anche di tipo una suggestione. Grazie.